Quando voi nascete, noi veniamo inondati, se nasciamo figli di povera gente, di gente umile, credendo in tutta una serie di cose che non sono vere. E la cosa grave è che noi non ci accorgiamo che ci crediamo. Cioè se io vi dovessi chiedere in che cosa voi credete, voi non lo sapete. I risultati nella vostra vita però denunziano quello in cui veramente credete a livello inconscio. Quindi innanzitutto sta per arrivare lo spiegone col grafico di come funziona la mente, che vi dovete sorbire anche se pensate di saperlo già, perché poi i fatti molte volte vi tradiscono ma lasciamo perdere. Dovete accettare che ciò che voi credete sul denaro, sulle relazioni, sul mindset stesso, abitudini che voi avete, non ha di solito un senso logico per arrivare al successo. La società, ripeto, non la voglio mettere su tema... potrei farlo anche molto bene. Non vuole che le persone abbiano successo. La società in tutti i modi e con le tasse e col sistema di educazione scolastico che non si è evoluto da centinaia di anni, dove c'è il suono della campanella, le sedie in legna, i banchi scuola col sottobanco dove tieni il righello e poi fai la foto delle tette sul banco, che ci sono ancora le cose a matita disegnate da 30 anni prima. In realtà è stato inventato nella Prussia, un sistema di origine prussiana per praticamente trainizzare gli schiavi, gli impiegati. Ed è così, è esattamente così. Il sistema ci vuole schiavi, ci vuole stupidi, ci vuole docili. C'è la tassazione così che tu non possa accumulare i soldi, c'è tutta una burocrazia di merda, c'è tutto un sistema... che è un sistema internazionale, ripeto, non la voglio menare troppo lunga, perché isula dagli scopi di questo corso. Prendete per buono che è così e se avete comprato questo corso probabilmente avete dei sentori che... Quanti di voi nella loro vita è un po' che si guardano intorno e dicono ma... sembra che ci sia qualcosa che non va a modello Matrix. È esattamente la realtà. Viviamo in un Matrix che è evoluto, ok, le cose non succedono per caso, ok, piantiamola. Quindi bisogna uscire dalla mediocrità e bisogna entrare nel club di quelli che vincono, vincono con i soldi. Avete mai provato a vedere che le persone che perdono, di solito perdono in tutto? Beh, ci sono persone che dicono io non ho tanti soldi. Eh, sì, però è anche di solito in media un matrimonio di merda, però in media è anche degli amici sfigati, cioè non va niente. I soldi, i soldi possono andare, venire, puoi essere contento con meno soldi. Non per forza, per esempio, bisogna diventare milionari, anche se aiuta. Adesso poi ne parliamo, perché finché non avete i soldi, voi come gira il mondo, non potete capirlo. Questa è una cosa molto vera che mi comunico. Se voi non siete ricchi, capite un cazzo. Erano anni che lo volevo dire. Quelli che non sono ricchi non capiscono niente. Cioè non potete avere accesso a dei livelli sociali, economici, di giri, di cose che sapete, per sapere abbastanza, per avere risultati nella vostra vita. Cioè quando io ero povero non capivo niente, di nulla. Io credevo delle cose e non sapevo delle cose quando io ero povero che a volte mi spavento al solo. Io come facevo a non sbattere contro i pali quando camminavo? È assurdo. Vi posso assicurare che la visione che hanno i ricchi dei poveri è assolutamente tenera. Ui signori, non connettono i dot, ok? Non connettono i punti. Grazie a tutti